salve ragazzi e ragazzi benvenuti in un nuovo video allora questa sera mi dedico tutta per me perché questa sera vado a mangiare al sushi finalmente raga una serata tutta dedicata per me che bello non vedo l'ora allora ragazzi il tempo di sistemarmi il tempo di accompagnare a niccolò e vi faccio vedere quello che ordinerò e quello che mangerò va bene a tra poco ok ragazzi siamo arrivati vi faccio vedere dove siamo si legge come si chiama allora sushi kokusai kokusai bellissimo dobbiamo aspettare perché abbiamo ordinato abbiamo ordinato il tavolo quindi bisogna attendere un pochettino no ragazzi guardate che hanno messo praticamente la cosa che gira col nome è bellissimo comunque siamo qua che spettacolo guardate qua guardate la com'è un affrecchiato bellissimo mamma mia come c'è bellissimo si mangia benissimo e mi stiamo facendo un altro ordine adesso raga vi giuro sto scoppiando mamma mia non ce la faccio più ancora abbiamo fatto ordine e stiamo aspettando madonna ah però ci voleva ci voleva sì sì no vabbè ragazzi iniziamo mamma mia guardate che spettacolo mamma mia ciao 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 vi faccio vedere l'ordine guarda guardate guardate ci siamo mangiate tutte queste cose qua finito ragazzi ce l'abbiamo fatta mamma mia che mangiata raga scusatemi la luce ma qua c'è già buio ci siamo fatti una mamma ma ci voleva finalmente sono venuta al sushi dopo un bel po di tempo sono proprio contenta abbiamo mangiato benissimo se voi siete qua dico senza vi raccomando venite qui al cucu sai perché si mangia divinamente bene io sono soddisfatta adesso ci andiamo a prendere un bel dolcino guardate che bello passiamo sotto la sella ok ragazzi siamo alla caffetteria top flight andiamo buonasera no 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 wow ok ragazzi finalmente sono andata a prendere il mio bambino e adesso siamo tornati a casa mio dio che mangiata spettacolare raga veramente ci voleva proprio sono proprio contenta comunque ragazzi io vi ringrazio per avermi seguita ci vediamo al prossimo video va bene buonanotte a tutti ciao ciao